Festività di Natale! C'è una gran parte del mondo che non lo festeggia, non sanno che cos'è e non gli interessa, ma a seguire questo video forse sei in Italia e probabilmente questi giorni sono giorni particolari di feste e per tanti sono giorni belli da passare insieme con amici, cene, parenti, regali e doni e per tanti altri non sono così belli, per cene, parenti, amici, doni, vuoti, mancanze, perché a Natale porta fuori un po' tutti i nodi, tutte le schifezze che abbiamo saltano fuori a Natale. E allora in questo video speciale di Natale tre indicazioni, tre indicazioni yogiche per passare al meglio, sopravvivere o farsele andare bene queste festività di Natale. Per vivere meglio queste festività da praticante non possiamo non partire dalle riflessioni su Samtosha, la pratica dello yoga che ci porta ad essere contento, sviluppare un senso di contentezza per ciò che c'è e per ciò che non c'è. Samtosha si basa sull'essenziale e non sul superfluo e in un momento come questo dove il superfluo è così tanto spinto, sembra che se non abbiamo, non avremo mai abbastanza e dobbiamo sempre avere di più, ecco che Samtosha si può contrapporre completamente per farci riconoscere e farci vedere che le cose che ci sono in quale dovere dimostrare chissà cosa o dovere scambiare chissà quali regali. Non sono i regali che ci faranno più felici ma è il donare il tempo, è il donare la presenza di noi con gli altri. E allora essere capace di riconoscere questo, essere capace di riconoscere che abbiamo più tempo per i nostri cari in queste festività, nella maggior parte dei casi, può essere un valido strumento per essere pieni di gioia anziché sentire dei buchi. Il secondo aspetto riguarda ha-hara, che è la dieta. Sì, perché tra tutte le varie cose che facciamo noi italiani c'è anche abbuffarci come se non ci fossero domani per tutte le festività, perciò parte un tour de force dalla vigilia arriva fino all'epifania, ma abbiamo un problema, bisogna ricordarci che ciò che mangiamo è ciò che siamo. Allora la quantità, la qualità energetica del cibo che noi ingeriamo si trasformerà in noi, in parte diventerà noi stessi e di conseguenza che tipo di qualità voglio inserire dentro di me? Voglio essere quel tipo di persona o voglio essere quell'altro tipo di persona? Allora riuscire veramente a mangiare in maniera cosciente e consapevole può fare la differenza perché, di nuovo, se buttiamo invece dentro delle cose che ci inquinano e che sono con una qualità bassa rispetto alla nostra possibilità di coscienza, questa inevitabilmente andrà giù e se va giù la coscienza sale ansia, depressione, senso di non gioia, come dicevo prima Samposha, e scarsa capacità di entrare in connessione, perciò curiamo la dieta, state attenti a quello che mangiamo, per piacere. Infine, l'ultima attenzione da portare a questo Natale è che il tempo è ciclico, perciò questo Natale, come tutti gli altri Natali che hai già vissuto, passerà. E se sei magari una persona che vive questo momento con tensione, perché magari non ha un momento semplice, per mille ragioni che comprendo benissimo, ecco fatti forza perché passa, passa e tra qualche settimana nessuno penserà più a queste festività e saranno andate e ripartirà la vita, perciò vai avanti e anche se c'è un momento di ombra, un momento di afflizione, cerca di sviluppare le due attenzioni di prima, la Samposha, l'attenzione alla dieta particolare, con la certezza interna che questo momento passa, passerà, tutto passerà e anche le afflizioni che senti si trasformeranno. Porta pazienza, vai oltre e collegati con ciò che c'è di buono e di luminoso in te. Detto questo, i miei migliori auguri per riuscire a passare al di là del traghetto, al di là del fiume e delle festività nel migliore dei modi e io mi prenderò una piccola pausa e ci vedremo nel primo video del 2024 dopo l'Epifania, perciò più o meno sarà il 9 o 10, il primo martedì dopo l'Epifania. Namaste, buona pratica, ciao ciao! Grazie a tutti!